Il nostro concerto è quasi giunto al termine, ma prima dell'ultima canzone vorrei lasciarvi con alcune riflessioni. Non sprecate il tempo a incolpare gli altri. Ricordate quando puntate un dito verso qualcuno, tre dita puntano proprio verso di voi. La vita non è mai bianco o nero. Non lasciate che la paura governi la vostra vita. Potete stare attenti ed è importante essere responsabili, ma non abbiate paura. La paura paralizza. Camminate attraverso la vita con orgoglio. Amate tanto, sorridete molto. I miracoli accadono quando lo fate. Dedicate tempo alla ricerca della verità e non voltate le spalle all'ingiustizia e alla soffrenza umana. Amate il vostro fratello come voi stessi. E non dimenticate di proteggere e di rispettare madre natura. Siate umili e grati. Consumate di meno. Abbracciate tutti gli esseri viventi con amore e tenerezza. Cercate la pace. Credeteci, lavorate per essa. O almeno sostenete chi lavora per essa. Voi potete controllare il mio sito web e scoprire molte bellissime organizzazioni che lavorano per la pace e i diritti umani in Israele e Palestina. E infine, grazie. Grazie. E infine, ricordatevi di celebrare la vita ogni giorno, ogni ora. Notate i dettagli. Abbracciate il mistero di tutto. Perché la vita è sacra. E la vita è bella. La vita è bella. Smile, yeah, with every reason why, love, as if you were a child, smile, no matter what they tell me, don't listen to a word they say, cause life is beautiful that way. Tears, a tiny wave of tears, a light that slowly disappears, wait, before you close the curtain, that's even another game to play, life is beautiful and amazing. Life is beautiful, life is beautiful. 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie